Testaccio, ex mattatoio. Degrado e abbandono avvolgono lo storico villaggio ai piedi del Monte dei Cocci. Erbacce, immondizia, tubi e condutture a cielo aperto fanno da cornice fin dall'ingresso della città dell'altra economia. Dentro, un cantiere abbandonato accoglie pochi visitatori che si avventurano oltre il telo nero. Un telo che fin dall'entrata, simbolicamente, fa da contorno all'area dei lavori, quasi ad avvertire i malcapitati di quello che si troverà dentro. Il cantiere si estende sull'intero spazio del villaggio dell'ex mattatoio, una città nella città che un tempo serviva da centro carni e che negli anni si è trasformata in spazio culturale, in città dell'arte e in sede del macro. Per i pedoni soltanto stretti i sentieri per muoversi tra ciò che è rimasto dei centri culturali che la caratterizzavano. Nel 2014 l'ex sindaco Marino stanzia 2 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione. Partono i lavori, ma in breve tempo tutto si blocca. Un manto di incuria abbandono scende su tutta l'area. La giunta capitolina 5 stelle per riqualificare la zona decide lo sgombero delle poche realtà rimaste nonostante il degrado, come la scuola popolare di musica di Testaccio e il centro culturale kurdo Ararat. Al loro posto un lungo percorso tra bottiglie abbandonate, recinti, cumuli di San Pietrini. I pochi turisti che si avventurano alla ricerca del macro si perdono tra i rifiuti, le buche e i cumuli di terra da riporto.